Perseguitato dai vigili urbani e dall'ufficio commercio del comune, vessato da controlli pressoché quotidiani e da sanzioni che definire caffiane è ancora poco. Una per tutte, 500 euro di multa per il biliardino presente nel suo locale, utilizzabile gratuitamente dagli avventori ma che per la legge è equiparato a un videopoker. Stefano Ceolin, titolare del palco, noto esercizio di fronte al teatro Toniolo, non ne può letteralmente più. Se capitasse a chiunque stesse qui ascoltando di ritrovarsi appunto di volta in volta di fide piuttosto che multe o comunque visite per quanto cortesi, non dico quotidiane ma quasi di vigili urbani, a un certo punto ti viene il dubbio che tu sia colpevole, quindi un bandito. Ho ecceduto l'orario di chiusura un paio di volte, racconta, una per la Reier che aveva vinto il campionato e una per i Momix che dovevano venire a cena dopo il loro spettacolo al Toniolo, concluso signoritardo. In entrambi i casi puntualissimi sono arrivati i vigili che me l'hanno fatta pagare cara. Mi rendo conto che fanno il loro dovere ma oltre alla legge esiste anche il buonsenso. Voglio dire neppure Eichmann a Nuremberg ha potuto giustificarsi dicendo che eseguiva degli ordini. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'ennesima di fida, arrivata dall'assessorato a non pubblicizzare nemmeno su Facebook gli eventi organizzati dal locale, nonostante si tratti di iniziative culturali gratuite per la cittadinanza, senza maggiorazione al bar e senza neanche l'obbligo di consumazione. Il fatto di pubblicizzarlo, secondo un certo regolamento, sta a significare che l'intrattenimento diventa attività prevalente, cosa per la quale, non essendo io autorizzato, ho ricevuto di fida a smettere di rendere noto quel che faccio. Chiedo solo di poter lavorare in pace, allarga le braccia Ceolin, si fa un gran parlare di attività che chiudono per la crisi e del centro di maestra che si svuota, io vado avanti ma chiedo di non essere lasciato solo. Se non mi sentissi letteralmente in prigione, perché poi vi è anche un altro discorso, ossia la situazione economica che certamente non fa sconti neppure a me e quindi l'obbligo, almeno l'obbligo morale, di cercare di sostentare i costi lavorando dalla mattina alla sera, non c'è dubbio che io avrei già lasciato. Grazie. 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 Grazie.